Ok ragazzi, tenendo sempre la cintura in questo modo, che funge dalla cintura, stiamo a fare un altro esercizio che c'è molto utile per imparare a fare con la ruota. Allora, posizioniamo le mani all'interno del cintura, facciamo un salto in modo tale da ritrovarci dall'altra parte. Ora guardate, mi metto in posizione accolacciata, metto le mani all'interno e faccio un salto. Questa cosa la faccio da capare. Inizialmente posso pure farlo facendo dei piccoli saltetti. Uno, due, tre, tre, quattro, per chi non lo sa fare ancora bene. Ritorno. Uno, due, tre. Notate le braccia, devono essere sempre tenutinate. La volta imparato questo, lo facciamo direttamente a mezzo salto. Qua, due, qua, due, tre. Lo facciamo tante volte. Più bravo inizieranno a fare da l'alto, facciamo le mani e giriamo sul salto da l'alto. Grazie. 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 Grazie.